L'ex preside della scuola Giovanni Falcone dello Zen di Palermo, Daniela Loverde, finita agli arresti domiciliari per peculato e corruzione il 21 aprile scorso, ha chiesto di essere interrogata per raccontare la sua verità ai pubblici ministeri della Procura europea. Durante l'interrogatorio ha fornito una sua ricostruzione dei fatti, ammettendo alcune verità ma sottolineando quanto di buono ha fatto per la scuola della periferia palermitana di cui è stata dirigente. E' stata una leggerezza commessa senza rendersi conto di aver fatto una cosa vietata, così la preside assistita dall'avvocato Nini Reina durante il breve interrogatorio avrebbe cercato di giustificarsi dopo che i carabinieri hanno trovato e sequestrato tre smartphone e un computer alle figlie della preside acquistati con i soldi dell'Unione Europea destinati ai progetti della scuola. I PM della Procura europea non avrebbero creduto alle giustificazioni dell'ex preside Paladina della Legalità. La misura degli arresti domiciliari è stata confermata per Lo Verde e per il suo vice Daniele Agosta, accusati di corruzione e peculato. Il quadro indiziario non sarebbe variato rispetto alla ricostruzione dell'accusa e continuano le indagini sui 700.000 euro di finanziamenti europei per i progetti destinati alla scuola.